La guerra continua a uccidere anche dopo la fine dei combattimenti, con centinaia di migliaia di oggetti esplosivi nascosti sotto il suolo ucraino. Questi soldati sono specialisti dello sminamento. La loro missione è particolarmente pericolosa, ma assolutamente necessaria affinché i civili della zona possano tornare a spostarsi, vivere e lavorare come prima della guerra. Tutti i cittadini, e tutti i cittadini hanno bisogno di sbagliare l'Ucraina. Oggi almeno 70 milioni di uccidere. Si tratta di un'altra volta che non si può vivere qui. Secondo il rapporto di un team tank internazionale, circa un terzo del territorio dell'Ucraina è stato toccato da intensi combattimenti. Si tratta di 174.000 km2, sotto cui sono sepolte decine di migliaia di mine e di proiettili inesplosi. Secondo gli esperti, l'Ucraina è il più grande territorio minato al mondo, superando anche paesi come l'Afghanistan o la Siria.